Ultimamente sono ossessionata con i carciofi. Ecco una ricetta semplice che li vede come protagonisti. La fregola risottata con i carciofi, appunto. Dopo averli puliti, li taglio a fettine sottili e poi taglio a rondelli i gambi. Faccio rosolare uno spicchio d'aglio in camicia con dell'olio d'oliva e dopo qualche minuto aggiungo i carciofi. Aggiungo quindi anche un mestolo di brodo, copro e faccio cuocere una ventina di minuti aggiungendo ancora brodo se fosse necessario. Quando i carciofi si sono inteneriti, aggiungo la fregola con un pizzico di sale ed inizio la cottura proprio come se fosse un risotto. cioè aggiungendo brodo all'occorrenza. Dopo altri 20 minuti la fregola è cotta, quindi aggiungo di sale e aggiungo lievito alimentare che aiuta a creare una bella cremina. Completo con un filo d'olio d'oliva a crudo.